San Gimignano, il gioiello medievale della Toscana, famoso per le sue torri imponenti e il suo fascino senza tempo. Situato nel cuore del centro storico, questo immobile è immerso nella storia e nella cultura di San Gimignano, con negozi, ristoranti e attrazioni a pochi passi di distanza. San Gimignano, il gioiello medievale della Toscana, il gioiello medievale della Toscana. San Gimignano, il gioiello medievale della Toscana.